Oggi siamo ritornati su rise of a new champions raga per il secondo episodio nell'ultima volta raga avevamo quasi vinto contro la L'accademia igashi raga se non sbaglio raga non mi ricordano il nome e oggi ci andremo ok si igashi giusto oggi ragazzi andremo a prendere la nostra rivincita raga lasciate un bel like iscrivetevi al canale condividete con tutti i vostri amici attivate la campanile per nessun altro video raga vi lascerò in descrizione il canale di un mio amico che ha iniziato da poco a fare i video raga voglio almeno portarla ai 50 iscritti prima della fine del 2023 Perfetto ragazzi ci dobbiamo prendere la nostra rivincita contro questi brutti avversari che per poco raga non perdevamo manco noi secondo me troppo attenzione subito izawa col suo tiro della banana Perfetto ragazzi è un po' mi dissocio raga attenzione subito la parata del portiero Come si chiama raga l'avversario fortissimo di ieri quello lì che Oddio aspetta ok a posto Dai bella palla per gli schizugi è molto troppo lontano Raga errori mio Oh bella per l'uomo Lo c'ho il mio personaggio Oh bastardo No Ma che cacchio fai kisugi ti sei drogato Oh andri vai Vai kisugi Eeeh mamma mia kisugi Ma vaffan kubo Ma dai Ah ha scartato in una maniera incredibile Grande Yamaturi Bello il tiro per Kisugi Non è vero dai Per poco non facevo il tiro del proiettile Takasugui in difesa Kisugi dai Eeeh Troppo distante mi sa Oh perché non mi prende la pala Oh Ma è usato a fare il copo proiettile dai GG per Il difensore dell'altra squadra Oh raga Errore della Della squadra avversale Bello pala per l'andri No raga non l'ho tirato in tempo Mannaggia Palla ai Yamaturi Palla adesso attenzione ad andri Kisugi potrebbe fare di nuovo il tiro del proiettile Vediamo se riuscirà a farlo No Raga è un bug secondo me questo qua Che il Difensore non prende la palla Vabbè Sfruttiamo la naga Nostro vantaggio Palla per Isawa Che la passa Taki Palla per Kisugi Tira però Non capiamo anche cosa è successo Però vabbè Ti ti la passa avanti Kisugi mannaggia Vabbè poco non la prende Oh raga non riuscivo a prendere il palla Ma che cacchio Ah ma Yamamori Non Yamaturi Scusa bro Yamamori Boh raga Che noi strani quelli giapponesi No 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 Te non tiri Te non Eh so che mi saprà tira Ah no ascolta Però Shizugi Bravo Toda Eh si Ma raga Mi inventi no mio Noo che schifo di palla Per Kisugi Bellissimo Oh grandissimo Kisugi Vai 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 Colpo di proiettile Vai Esghere Mannaggia Vabbè parla sempre No ma che palla di merda Che gli ha dato anche Te Kisugi però Grande Andri Palla per Kisugi Colpo di proiettile All'ultimo Non è un tiro Non è vero L'ha preso però L'ha preso il potere No non è una presa Da un ciclo Con questo sentite Uno spirapolveri sottofondo A casa mi stanno pulendo Non posso farci Oh Grande palla per Kisugi E non può fare il tiro Del proiettile Però non posso tirare Normalmente Bella per Kisugi Oh raga Un mouse Oh ma prenditi la palla E palla Ciao raga L'energia Kisugi Mi schifo Che è più potente Un maniale morto Bella parla E si parla Vurava io Nei video non so parlare Vurava Kisugi Taki Faso Kisugi Dai 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 Tira Ma ora Non mi fa mai tirare In tempo Sono sempre più veloce Aversario Attenzione No Era questo qua Quello lì Che non c'è Ma 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 non c'è Almeno un gol Oh Non riusciamo raga A fare un passaggio Dicente Bravo Takasuki Andri Vai a Kisugi Colpro di prese Da distanza Non lo so Ma Uuuu Bella parata Sì Sì Proprio cacchio L'arbitro Vabbè Secondo tempo Subito Guarda Non ne dice Neanche Stascina Perché Non cambia niente Ma il ca Oh Posso di avere Io la parla Raga Posso fare La zona V Vai Non la fa fare Non la fa fare Non la fa fare Beh Mora Mi faccio un culo enorme Colpo viettile Da questa distanza Dai Boom Dai Fai ma il gol E porta la casa No La parata Dai Altro colpo viettile Vai Kisugi Kisugi L'era il mio preferito Dopo di me Raga Le parla tutte Sto portiere Oh No Ma cos'è No Rimesso al fondo Che pirla Che siamo anche noi Però Bravo Ciao Raga Chi vi Le faccio sempre Fare il colpo Di proiettile Vero non insegno Ma l'ha presa Il volo Raga Fino adesso Gli ha sempre Prese In provare Spingendole La prima volta Che la prende Il volo Questo Grandizawa Tiro della banana Vai Morsi Inizawa Non me ne frega Niente Le parla tutte Raga Le parla tutte Non ho segnitati Speedshot Oh Sium Nankatsuno Igashi Zero Raga Gigi Ma Murisaki Grande Cacchio Mamma mia Passaggio Incredibile Bella Possa Bella Non riesco a parlare Mamma mia Che Raga Mi posteraggio Mi posteraggio Mi posteraggio Va proprio schifo Grazie Scherzavo Andres Sei fortissimo Mi ho scartato Vai a mamma No I uomini Renditi utile Eh Non c'è Dai Amamo Riprenditi Palla Questo Scivola Grande Taki Con Procoglietti Da distanza Magari Faccio Gol Eh Sì Magari Bella Palla Perisawa Tiene La banana A questa Distanza Che cacchionone Ha un tiro Manco Ma che tiro Ma era un tiro Almeno spero Cioè No In realtà Non spero Spero Ma non spero Grande Kizuki Beh Ma va Famai Allora Dai Ciao Spero Prendi Palla 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 Taki Dai Prova Andaste A distanza In like Speedshot Bella Prova C'è Almeno Dj Oh Grande Taki Vai Speedshot Mamma mia Raga 2 a 0 Davanti al portiere Manco L'ha vista Partire Doppietta Per Taki Gigi E questa Raga Che ieri Manco Ho fatto Così Tanti Tiri Oggi Invece Mi hanno Fatto Un casino Eh Kizugi Mamma mia Mamma Oh Oh Kizugi Rai Un mito Col proprietario Di questa Distanza Ho fatto Un'azione Quanti Rai Scartati 5 Col proprietario No Me l'ha presa Bastardo Dai Raga Mezzo Secondo I Uami Stai Bene E mi sa di no Bravo Ciao No Ma così era quello Grande No Cacchio Va fuori Va fuori Va fuori Eh Vabbè Anche a basso Questo qua No E raga Andiamo a vincere La prima partita Della New Hero League GG Ok raga Eccoci qua Secondo Incontro Della New Hero League Contro la Otomo Raga Non mi so Ah Se non Sbaglio Raga Qua nella Otomo C'era Un ex Giocatore Della Nankatsu Che è diventato Rivale Degli appunto Membri Attuali Della Nankatsu Ebo Raga Non mi ricordo Bene Eccoci qua Raga Dai Forza Nankatsu Subito Che scarta Una persona Vabbè Raga Io i nomi Non li so C'è Quelli del Nankatsu Su Attenzione Palla per Isawa Proverò il suo tiro Della banana Un po' di associamento Però vabbè Vai Izawa GG Ora va Inizio di parano Subito Oh Attenzione La parata Isawa Tiro della banana Vai Tiro della banana Non me l'ha fatto Perché Vabbè GG Oh dai Voglio fare il mio X-Fitshot Bella Grazie Mi hai fatto fare il mio tiro Vai No Ma C'è L'ha parato lui Vabbè Lo li faccio Volevi Bastardo No Che cacchio Ho fatto Raga Ho fatto un movimento Sopranaturale Pira palla Bravo Iwami Colpo di pietti Dai stan Oh Mi fanno fare un tiro Raga Ma Ero un tiro Pass Non Sto capendo Oh cacchio Morisaki sei da solo Te lo dico Grande Takasugi Che ci salve In extremis Belli passaggi Chisugi Era molto difficile Da prendere Grande Yamamori Isawa Chisugi Ha passato Andri Vai Che passa Daki Palla Andri Dai Chisugi Ti prendono Ti scartano subito Bravissimo Vai Colpo proiettile All'ultimo Raga dai vediamo se riuscire a segnare No la farà ancora L'ha scartato in una maniera incredibile Eh Yamamori non è ancora più speciale con i tiri La mia normalmente Oh Takiraga ma è bagazzissimo Vabbè Palla d'andri Prova su Ike switch Eh vabbè Ma mi prendono subito palla Mi fanno fare un tiro Grande chisugi Palla d'andri Ike switch Subito Se mi lo fa ancora sclero Dai Mamma mia Per poco Entrava Ma Oh raga Sono bagazzissimo Eh non lo so Ma raga Ma attacchi Bagazzissimo Raga vado Adosso all'avversario Non prende palla Grande Yamamori Colpo proiettile Dai L'ha sbagliato Ma non è un tiro Oh la postata a me Grazie Dai Andri Ike switch Shot ancora E' la terza volta No ma la parola Non ci credo No Vuole fare la raga Fare il mio primo gol Oh la postata Ma come cacchio Fu il gioco qua raga Non esiste mi sa Dai Ike switch Dai Andri Voglio fare Fare il tuo primo gol Sì Grande Andri Grande raga Primo gol Per Andri Grandissimo Mamma mia E c'è la prima raga Di molti Dai Chizu di grandissimo Copo proiettile Subito Non era un tiro Questo Cioè sì però Boh E va E dai Tira Palla a Kijiji Isava a tiro della banana Vai Sghiera Mi non si riusci a segnare Non credo Appunto Kijiji dai Subito tiro del proiettile Ma è un portierone raga Grande raga Grande raga Grande raga Tira No mannaggia Bravo Yamamori Vai Andri Ancora il high speed shot Sto tirando solo io No raga mi si attivata la zona B Vabbè raga la usiamo subito Ah no per gli avversari Ah no per gli avversari E qui va Mi supera un po' strano No l'ha subito attivata Cacchio Vabbè Allora si sblocca anche noi E però No sarà un po' di visci Vai Vai Zona B Dai E Buongiorno raga Tutto il massimo Voglio dalla squadra Vai Kijiji Taki Raga Dovano fare fare il tiro Delle banane di Isava No ma ha scattato Non ci credo No Il tiro passaggio Così là Morisaki Bravo Subito 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 Rinvia 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 Vai 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 Raga Lo posto là in questi casi di Isava No Che tiro di schifo Però anche Mamma mia raga Un porterone incredibile Non ha preso un tiro al volo D'acqua e da distanza Vai Zawa Tiro della banana Vai 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 Morata dobbiamo fare tantissimi tiri Così almeno si stancano Vai prima della fine Della zona Della zona B Vai Ancora un tiro della banana Mamma mia ripara tutto Dai non è ancora finita Ai Speedshot Vai No ma me la parata All'ultimo Non ci credo Dai fatemi fare l'ultimo tiro della banana Quanti tiri della banana Ho fatto questo qua Non ho segnato Hai Va ti segno adesso Dai 2 a 0 Nancazu Otamo Atomo Otomo Non lo so Gigi raga Ma ho cos'è Un aquila Oddio cos'è Oh Un rato grande Un risultato Ma quello lì E' morto il giocatore No te non fai un altro tiro Io l'ho provato a tirare lo stesso da una distanza Magari lo stanco un pochino a portiera Oh Gigi raga partito Ma no 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 Oda E tu vai No Ishizaki Non ci credo Eh niente Grande Morisaki No ma anche te si è un pile Ishizaki Grande Taka su di che ci girava in extremis Vai parla da Andri Ma che caccia ha fatto Grande l'ha preso Vai Mamma mia no Bastardo Lo prendi tra Bravissimo Andri Quello del mio figlio raga No E' un fortino tipo quello di passaggio Bravo Takasuki Oh ma sto No questo qua ma Oh Buu che devo dire GG per il passaggio bro Eh vabbè anche però Vai Non so se provare a scaltare grande Dai colpa a voi e tiri da qua Per poco Oh palla fuori Grandi raga mi avete fatto fare Una rimasta gratis No questo ragazzo Se qualcuno Lo so cieco No Sto qua raga non deve fare a tirare Bravo Bravo Scalto anche questo No dai S'ha visto tepico Bravo Mamma mia Stiamo giocando bene Eh però anche te Taki c'è la resistenza un po' di un maniale morto Nooo ma fai il tiro del falco cos'è Si Murisaki paramelo Ma raga Murisaki è più forte degli altri Fortissimo Paladandri E finisce raga la partita 2-0 contro la Otomo Alla fine erano un'Otomo L'Otomo è un'altra roba GG raga Mamma mia E niente raga spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale e condividete e bella raga ci vediamo domani E E E E